Prima ho letto che qualcuno diceva che il sesso deve sublimare, ragazzi sublimerà quando non starete più in questa vibrazione, ricordatevi che se siete nati da animali, perché se siete animali ricordatevi che non esiste il genere umano, esiste il genere animale, se siete nati animali e non vegetali e non minerali, se siete nati su questa terra e se siete stati, se vi hanno dato un corpo fisico, è perché dovete usarlo, se no ve ne davano un altro, capite? Cioè in un mondo perfetto, in una natura perfetta che fa le cose soltanto funzionali, se vi hanno dato questo corpo, usatelo, non potete stare adesso devo sublimare, devo diventare un'entità astratta, no, diventerai un'entità astratta quando sarai un'entità astratta, Quando rinascerai fra qualche migliaio di vite, se ti dice culo, un essere non dimensionale, scusate, un essere eterico, che possono essere le guide, i maestri, quelli che noi chiamiamo angeli, insomma un'altra vibrazione, allora ci penserai a stare in quella vibrazione, perché tu in questa devi pensare a stare in quell'altra? Beh, è come se ipotizziamo che ci fossero tutti gli angeli del paradiso, tutti gli angeli che stanno in giro, i maestri, i guide spirituali, eccetera, che stanno nell'etere, che ci aiutano, che invece da aiuta a noi cominciassero a pensare, no, io voglio tornare nel corpo fisico, adesso come mi divertivo quando trombavo di quel periodo, invece adesso in questo posto eterico non posso far niente. Sarebbe un delirio, perché le guide non guiderebbero più voi, e voi non andreste a cercare più le guide per farle guidare. Quindi, voi pensate a far quello che dovete far sulla terra, loro pensano a far quello che devono staffare in aria, non cercate di scambiarvi i posti, ci sarà un momento anche per quello, state tranquilli.